Non ci sono più i ricchi di una volta, perché il ricco di una volta non faceva un cazzo, non aveva bisogno di lavorare per vivere, diceva tu che fai nella vita? Diceva non faccio niente, non ho bisogno di lavorare, invece poi hanno cominciato a mettersi vergogna e quindi dice tu che fai nella vita? Ah io faccio un giornalista, davvero, bello, di chi ti occupi? Ah è qua, questo, quella, e quindi praticamente che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a togliere il posto ai poveri, i poveri che per bisogno, no, tanti sacrifici, abusivi, osteggi alla Luisa, all'Ums, alla scuola, eccetera, no? E quindi alla fine dice no, non puoi perché c'è un ricco che sta da 30 anni e là occupa il posto tuo. Questo è il comunismo vero, cioè quello tutto al contrario, dove il ricco vuole diventare povero, vuole comportarsi da povero e fotterlo al povero, non è quando il povero vuole fare il ricco proletario, di tutto il mondo unito, che è legittimo. La cosa è che il ricco va a togliere il pane dei poveri, dice io che ho fatto, ho fatto tutto il pane dei poveri, una cosa irreligiosa che il padre eterno dice ma io ti ho fatto nascere ricco, che ti ha già fatto nascere a fare ricco? Tu facevo povero. Allora il ricco, cioè ricco inoltre, i leopardi, stava là sull'ermocollo, infinito, non è che andava a fare il concorso dell'amministrazione, doganale, pontificia, dove là c'è andava che il povero ha bisogno, eccetera, io sono ricco leopardi, suo figlio era contro leopardi, palazzo leopardi, monaldo leopardi, biblioteca leopardi, li studio l'ebraico, non è che vada a fottere il posto al povero. Questi perché non si studiano più l'ebraico, l'astronomia, l'aramaico? E vai non a fottere il posto a noi? Domanda, perché c'è la disoccupazione in Italia? a punto di domanda, perché è colpa dei ricchi.